e ciao a tutti ed eccomi questo nuovissimo video di minecraft questo è il terzo episodio della hardcore come sempre sono in compagnia di matteo ciao e che dire per questo video tutto, no perché scherzi di nuovo, cosa facciamo questo video? abbiamo detto nel scorso video che faremo qualche cosa nel scorso episodio eravamo in caverna e in questo episodio alziamo, si secondo me è meglio alzare i muri, di che materiale facciamo i muri? e se lo facciamo di questo, guarda, aspetta solo che trovo e che vedo come viene quello rosso ok, diciamo che questo è la nostra parete no, non mi comincia non granché no, che cos'altro non mi comincia questo questo spacca? no perché se ne è già nel pavimento no, no, è diverso guarda e se mettiamo questa, guarda questo è quella non lavorata spacca 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 no, qua è troppo simile non mi piace senso non si mettiamo, guarda guarda qua madonna si mettiamo così figo si, così si allora, raccoglie tutto nel senso? attento che qua è che non c'è il piccolo spero eh, ormai ho racconto tutta la senso attento che qua si anche esce fuori appunto che c'ho detto che c'ho detto costo detto che si esce allora sono dato il taglio ma c'è gente che ci... a volte disturba sempre quando si registrat. Questo è ovvio ormai dovrebbe essere credo anche il giorno qua mi tengo andato a scavare un po' va bene, mi è finito il piccolo ma io cerco la sandstone scherzo? ehm scava la sabbia e con la sabbia facciamo vedere la sandstone si scavo ma c'è anche la sandstone se vuoi intelligenza sovrumata perchè 4 sandstone ti danno una sandstone lo so ok guarda che bel laghetto che abbiamo allora dovrei avere tutto nel... no no niente qua e qua allora questo e questo così 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 Le nuove bocche sono veramente figlie, specialmente per i palmenti. A te sto lagando? No. A me un pochino. Non ho capito ancora perchè. Ok allora io intanto chiuso se per causa di granotte. Poi chiudi anche per terra qua sotto la casa. Per esempio con terra, raccoglie l'assetto e ci mette da terra la idea. Sotto il palmento giusto per non lasciare il buco. Ho buona idea io. Quello qua si esce fuori però. Ho uno stack e 35 dai. G. Dove lo faccio? Il muro? Il muro. Aspetta un attimo. Qua puoi coprire e questo qua puoi coprire. Questo è il balcone bar. Guarda. Aspetta. Vedi là della porta, là dove c'è la fornace del cesto, là incomincia. Ah qua? Per ora. Poi vedremo gli altri muro ancora. Figo. Vero? Sì. Vero? Vero? Perché c'è un buco qua? Ah, dobbiamo, credo che dobbiamo aver riscolato. Vero? Sì. Vero? 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 Sì. Metti un po' di cento a cuocere. Vero? A cuocere. Cosa? Per il vetro? Cosa? Per il vetro. È del momento che esc camper Levino? Metti 12 pezzi. Grande em VO! Bello! Solo coratore un po'. .. o guarderei di chiudere per ora metto con testo come fare precisamente poi qua io allargherei almeno di uno non scorto in giù quant'altro dobbiamo ripensare guardami anche qua dobbiamo fare il pavimento dove? di qua guarda qua non abbiamo ancora finito lo stiamo adesso facendo un po qui c'è la salita per in su allora la salita per giù mi vai a prendere un po' di quella bianca? che mi sta sbancando la rossa ce ne ho ancora tante c'è nella cesta c'è nella cesta i blocchi quelle quelle legate c'è buttati via o avevo giusta giusta come facciamo il pavimento di sopra? perché se facciamo i stessi materiali si vede anche di sotto o facciamo il pavimento doppio che facciamo il soffitto più pavimento c'è facciamo facciamo la scuola il miniero non mi piace più facciamolo di sopra il momento sopra la scuola 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 fai così guarda qui chiudi e falla tipo di qua così no per ora lascia la scuola la scuola con calma dopo cosa facciamo il sopra? facciamo il pavimento uguale il soffitto di un materiale o facciamo il pavimento e il soffitto uguale? ehm fai te dici di che che materiale facciamo il soffitto? guarda che lei ci sta meglio dici di te sandstone no ma ho tutto sandstone no cobblestone come ci sta secondo me la stone è la cosa migliore infatti è stone cosa? stone si allora facciamo il pavimento doppio e non hai capito cosa intende allora metti un po' di cobblestone a cuocere per esempio uno stack di cobblestone per esempio uno stack di cobblestone con il pavimento i tu sono sarà più costruzione casa che altro miglioriamo casa sta acqua incomincia a rompermi un po' le scattere cosa? l'acqua la preferirei davanti a casa la parola lascio vedremo il 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 ok metto a cuocere l'anno ok il parimento facciamo uguale e facciamo una cosa io faccio io faccio 5 fornaci si va a metterlo 4 5 stagini si basta credo anche uno stag solo di stone per il polimento che abbiamo solo per il soffitto sotto io intanto ho trovato una miniera di carbone ho trovato proprio un giocimento di sta roba bianca ok bene questo sto scavando però il problema è che non c'è problema di scavare allora ne ho raccorto uno stack per ora la diorite ce ne ho uno stack di quelle per ora basta per ora non c'è problema di scavare poi quando mi servirà la scavola avanti sopra come facciamo i muri uguale? si dobbiamo illuminare bene perchè secondo me ho alto 3 se lo spawn non posso spawnare anche l'endere ma ma non ma non non ma allora ci scavrerò in qua ho fuori cenotte se ti interessa c'è anche un creeper non andare davanti alla porta perchè c'è un creeper perchè il primo fa saltare tutto in area il secondo ti uccide ok le fornaci sono in azione io sto pensando come fare qua ok e il vetro non mai messo no da raccogliere io la studio allora ma ora ho messo e la vera se cade in piscina sono pure bagnato ho pure fame dai almeno se pezzi non come facciamo quadra Aspetta, adesso facciamo così Che indice di così qua? Uno spezzino qua ci mette qualcosa Sì, magari Eh, le fornace mettele lì Sì, anche Aspetta No, le fornace le metterò in un'altra parte Qua fare tipo Quella è l'entrata figa Per esempio il salotto o qualcosa del genere E le fornace in una stanza un po' più nascosta Allora Io ero sceso giù a prendere una cosa Sono salito giù Senza quella roba Allora Eh, ok Adesso devo salire giù Questa è l'entrata Questa è l'entrata Questa è l'entrata C'è l'entrata Oddio Cosa? Quanto carbone Prendi il piccone E raccogliono Aiuto un po' a scavare Intanto devo scavare lo stesso Vabbè mi è andato il piccone Mi è partito il piccone E' torce, mettile sul pavimento Cosa? Perché se no Sulle paresi Mamma quanto carbone Eh, ancora a me la succede tanto Ho finito Fino a fuori scavare Anche fuori? Fino fuori A noi dove siamo E ci facciamo un mega finestrone Poi sti alberi li toglieremo Perché Lui rompono la lista Dio come è grosso Entra fuori Entra fuori? Ok E' finito C'è fortuna Atlas, smooth, warmly Questa ancora non l'ho capita Perché Ma Va a prendere ancora un po' di sabbia E metti a cuocere il vetro Perché mi ho messo un po' di pesce Ma Come vedo non basta Ti piace la Finestrata qua? Di quanto è ancora sta montagna? Ah Qui finisce la montagna Ecco Con questo muro la montagna finisce Sì Figo però E devo prendere La sabbia Oddio Creeper Grazie Grazie Mi racconto tutta la sabbia Ma sta attento a non farti uccidere Perché Creeper in un colpo uccidere Ma Si sta registrando però C'è sì Non so il controllo Così che Non è per caso Dimenticata di registrare Spero che i sound sono buoni Mi sento tutto ok Mi sento tutto ok E vabbè Non dà un po' scatto Ogni tanto fa qualche scatto Proprio Indagno Noo Bene No ho finito quella rossa Noo E qua ce n'è Aspetta ne ho otto pezzo Avevo quella non lavorata Forse mi basta Che culo Un pezzo mi è rimasto E poi Vedremo come fare ancora Proprio Precisamente Dall'esterno Vieni a vedere Che figata Che è venuta Sopra Aspetta Arrivo Poi le scale Potremmo fare anche Cambiare Per esempio Il legno Se lui mi sta ancora meglio Facciamo quello con cano E questa cos'è? Che cosa? La camera da letto O dell'esterno Ma non è ancora finito O sa quanto ci possiamo muovere Ancora Verso l'altra parte Via dalla finestra C'è ancora tanto da scavare Solo da fuori C'è più senso da fuori Che Dovremmo coprire Tutto la senso Secondo me Perché Non lo so Vediamo Allora Sto albero qua Ma ho rotto i potelli Oh sopra lo faccio altro quattro Bene Cosa Alto quattro Lo faccio Me la vede Ottimo Dove sei? Secondo te Sopralatelo Sì Sai cosa ci manca? Ah Matteo No E' il Capitator Eh lo so Sai cos'è? Sì sì E' fatto scoppiare il creeper Eh ma è distrutto anche un po' Dell'agro Ma è l'intanzo dell'agro Mi rovinava la vista Perché vedevo il troco dell'agro Più che altro Dovremmo fare un avviso dall'altra Trappato il nostro laghetto Oh ma sai cosa stavo mai facendo questa serie più costruzione che altro Beh non mi piace Ma che me ne fotte Ho proprio detto semplicemente Ho racconto un bel po' di legno Oh uno stacche due Ti ho giù pure questo E con i suoi lati del foglio Nascondo la vista Eh ok secondo me Così dovrebbe prestare Ah poi qua non è chiuso Ma cosa chiudiamo? Secondo me qua la cosa migliore è Raccogliere tutto da sand E Piazzarci con la terra Raccogliere tutto da sand Aspetta arrivo Anch'io Ma perché non hai fatto l'altro il D4? Perché è bello Sì dai 4 Poi ora Vieni mi aiutare a scavare Ti faccio una pala Oh ce l'ho però mi sta finendo Te la faccio dai Sì Tieni Che figata è Trattata Ok qua giù Là ci piazzo come sono giusto che chiuso se viene notte che non mi entra in niente L'abbiamo trappassata 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 Cosa? Trappassata Trappassata Sì Ma andiamo Sì Tettolo sei fatta in ferro Sì Che Che bastardo Non so Io come scavacoloce Guarda qui Guarda qui Tu però ci mettiamo la Sì Tutto il consiglio Sai cosa dovremmo adesso incominciare anche a fare l'orfo ma uno semplice giusto per avere un po' di cibo anche anche la arenaria per esempio solo fino a qua guarda guarda cosa ho anche guarda cosa ho guarda cosa ho scavato io guarda cosa ho anche in mano piccolo in ferro guarda ce l'ho pure io le tuscavara io qua raccolgo la le tuscavara a me quanta ce ne ha a se ok 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 secondo me ci siamo atteggiati a me costoso un italiano il documentario al posto p g chi il suo modo poi addirittura letto sosta vera subito ma poi è successo perchè intanto non ci serve prestare lo sport perchè sembriamo è finita la serie così che dai vieni a letto adesso non è letto che palle filare e vabbè ho già così l'inventario pieno poi saranno tutti i scegli qua c'è i cosi ma io li lascerebbero con gli squali sotto sotto piazza da commerce per me perchè a terra ne abbiamo un granché come se ne avevo sempre di più io prendo più arenaria possibile e cosa sto facendo io ecco fino a questo è davvero un piazza commerce un altro mettiamo a terra anche perchè quella arenaria fin anche perchè quella arenaria fin che c'è che c'è che c'è che c'è che cazzo la cobblestone si è solo fino a questo piano poi ci metto la terra per fare il prato vedete sarà bello durante calma aspetta anche qua raccogliamo madonna ok te ne rendi conto che è un coso enorme di sabbia abbiamo un problema lo sai vero? no non abbiamo terra come no? ce ne abbiamo veramente poco guarda attraverso ce l'hai qui nelle d'italia no io ce ne ho ma ce ne ho poca ecco l'ho già finito ecco non c'erò più qua fa più in alto così che nascondiamo il pavimento qua davanti casa alzano un po' di più aspetta a livello di rapporto 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 qui c'è ok esistere come questo per ma cosa facciamo sotto mettiamo questo la natura erba o metto quell'altro è tutto, è tutto Secondo me è meglio mettere Emo Dio che mega caverna è già qua Oh ma che mega caverna c'è qua? Mi dì Ferro Raccoglio Raccoglio Ma davanti a casa cosa facciamo? Erba o quello marrone? Toccoli non è meglio erba 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 Volevo scavare e riepezzare Cos'è non è verba erba? Qua ci sono anche alberi volanti Perciò no far Perciò Cosa Carbone a caso E vabbè, quanta terra ci serve? Io non ho raccolto Un stack of Terra Terra No, io sto raccogliendo e piazzando Raccolgo e poi vado a piazzare Ecco, questo dovremo togliere Così che cresce bene C'è il problema E' il problema Il problema Il problema è che Il problema è che È un problema È un problema Per me è un problema ok ho un po' abbellito poi quale trattano non mi convince anche farà di senso un berlino ma togliamo questo proprio il tratto allora facciamo così lo facciamo non faremo di fuori che sembra più una montagna che una cosa no al meglio no ma perchè poi il muro è di senso un doppio allora mettiamo la casa e aspettiamo uno in fuori no no è di proposito bello così bella la porta così che la porta è caduta la 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 oh oh ma che cazza fai c'è una zona di attaccato e mi ha dato fuoco ora sto in casa raccogli tutto anche questo rosso tutto oddio raccogli tutto rosso io intanto lo spongo un po' qua non è finita pure la pala ora raccogli tutto rosso e se facciamo un mega sui zone anche fanno però sta uscendo bene vero vero oh mv dimmi dimmi se questa parete qua no guarda questa qua no la spa che ti viene l'acqua si no non dire se se si facessi di vetro no no ma quello ci penseremo dopo per ora lascia ora facciamo solo un po' la forma nel caso un po' perchè non so nemmeno se tenere quello perchè quasi più rompe che altro mi dai la rossa? aspetta il pavimento rosso se mi dai perchè li ho finiti o forse mi basta aspetta sembra che mi bastino e magari è finito la piscina ho finito i bianchi ma le sono bastanti ok così è simile aspetta mi serve una cosa facciamo a 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 c non mi convince la piscina in casa queste guarda che bello qua che bella finestra questo comunque dobbiamo togliere quasi vero bellissimo con calma si e come facciamo la finestra qua guarda scale più questo non ci sta qua rimpizzerci un po' la piscina fa un po' così aspetta faccio fallo così per esempio è una cosiddetta si può camminare con calma a un pezzo rosso c'è il giallo sono l'accesso è lì sono lì sul bord della piscina ho finito qua ho finito qua ah devo fare il soffitto di pietra? si il soffitto abbiamo detto che faremo di pietra ok oh non sta che 61 basterà speriamo no se no ne metto a fare altra ma secondo me basterà se no metterai altra non mettere a minchia senza senso altra perchè abbiamo poco carmone no devo uscire che paglio ora spaccato il peccettino di pietra e tolgo il pietra oh mi bastavano 6 senza romper quello poi dobbiamo qua chiudere pure allora tu 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 poche tu 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 st comunque non lo sta che quando sei ragione se ti sembra poco che te ne pare di questa finestrata qua spetta arrivo è bella mi vuole pensare pure ampliare farla anche con questo un cos'è il senso non ha letto la città marano senso e anche qua dove riuscito secondo me è qui c'è un buco d'acqua allora non c'è di più a no lì sotto va ancora acqua giusto un po' di acqua sento abbiamo 55 di ferro ma io sposterei entrambe le scale non lo so e se facciamo la maniera fuori casa potremmo fare tipo un passaggio con le ragazze facciamo in quella montagna con le ragazze facciamo un passaggio con le ragazze riechime riechime oh talia una parte sì ok allora cosa abbiamo ancora da fare? quando scavi vedi il pavimento di sopra vero? sì abbiamo fatto sopra che abbiamo il pavimento sotto abbiamo quello no lascia quello che è il pavimento di sopra perché guarda le scale a sé però sotto è risolto così però credo che le scale le sposteremo entrambe le scale direi poi qua dobbiamo togliere la sabbia io dovrò risolvere questi problemi di tag valida io sono sempre piccone oh guarda qua quanto c'è carbone Matteo allora io ho fatto ma fuori il giorno Matteo dormi perché c'è notte e io devo uscire eh aspetta eh che devo finire qua ma no lo farò nel prossimo oddio volevo una cosa fare ma meglio fare perché sicuramente questo episodio è già lungo sì è lungo sì è lungo no faccio il prossimo episodio perché è così che metto anche il titolo di quello che faremo in questo episodio abbiamo fatto un po' la casa non posso riposare perché? perché ci sono i mostri mi avvicinati infatti non sto uscendo perché non voglio fare una serie di sono solo i tre episodi perché ci sono solo i tre episodi non è una serie è troppo costo ciao ho fatto il tetto è inutile che mi iscrivi sì signorina è inutile che mi iscrivono è inutile che mi iscrivono qua adesso lo vedremo qua adesso ho fatto tutto il soffitto guarda che cosa? ho fatto tutto il soffitto tutto sì allora a me mi sta rompendo tieniti tu è il mio alla fine c'è solo uno allora guarda quello di storia quando ho fatto quando ho fatto a secola vedere quando ho fatto a secola vedere oh Matteo vieni su hai un piccola? no vieni a scavare no lo facciamo nel prossimo episodio sennò questo è troppo lungo vabbè vabbè siamo già è già lungo dai chiudiamo dai non voglio fare troppo lunghi ok no chiudo così allora allora io direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video te Matteo hai qualcosa da dire? no mi direi che per questo video è tutto perchè sicuramente è già lunghissimo e allora se non siete iscritti iscrivetevi per essere aggiornati ai nuovi video se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate per dirci la vostra opinione qualche idea eccetera noi ci vediamo nel prossimo video e ciao 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 un'ora e s...